Ah, sono sopravvissuto a tutti questi mostri paurosi mentre stavo venendo qua, su quest'isola deserta, tutta quanta paurosamente aiuto! Allora, ho delle quest da fare per poter sopravvivere, tipo là ci sono dei pesci che devo catturare, evidentemente io sono un catturatore di pesci, e qua posso scoprire con questo libro... La prima cosa che ho da fare è prendere gli alberi, che adesso cadono in modo molto particolare perché siamo proprio su un altro pianeta, su un altro pianeta pazzurdo e bellissimo! Molto bello, molto più diverso dal solito, e le cose qua cadono anche in modo realistico, cioè pazzescamente assurdo! Quelli sono alieni cattivi, malvagi, che mi vogliono uccidere e mi vogliono far fuori! La domanda del giorno è, ma voi sapete come si craftano i picconi su Minecraft? Sì o no? Sotto nei commenti! Questi qua non vanno assolutamente tenuti in considerazione, cioè nel senso dovevamo scappare, però in realtà devo anche andare tipo a prendere qualcosa in caverna! Allora, questi alieni in realtà spawnano ovunque, infatti guardate qua, cioè nel senso è pieno di robe, io se faccio qualcosa mi vado qua, c'è da qualsiasi parte, lì c'è lo squalo mangiatore di chiappe, qui invece c'è l'alieno un po' più cattivo che vuole mangiare qualche altro tipo di cose, e quindi io me ne devo andare via da qua, perché se no non posso vivere, cioè nel senso... Io ci provo e giustamente, giustamente, si deve sempre provare a fare le cose, però insomma, su un pianeta come questo molto particolare, pieno di difficoltà e di alieni che mi vogliono mangiare le chiappette, beh, un po' complicata da gestire, però già lì vedo qualcosa più avanti, ho visto qualcosa oltre all'alieno. Vediamo se riuscirò a sopravvivere, ovviamente il mio intento è ritornare sul mondo reale, cioè nel senso io spero di farci almeno questo il mio intento, e chissà quali cose imparerò su questo percorso che io farò, e cosa è successo? Ma chi è che mi sta facendo esplodere tutto? Allora, io non sto capendo perché ci sono cose che esplodono, c'è qualcosa che fa esplodere qua in giro, c'è qualcosa che esplode effettivamente qua in giro, quindi spero che non mi esploda a me. E guardate, io imparerò in questo percorso, e sto già imparando effettivamente ad essere più paziente, no, con questo genere di, come dire, di avventure, perché praticamente, purtroppo, io qua mi posso anche far male, ovviamente, su Minecraft ST, fai male su questa versione particolare di Minecraft cattiva, che ovviamente nel prossimo episodio toglierò questa cosa perché non lo sopporto proprio, cioè se è una cosa che non sopporto è proprio questa qua, E allora, niente, cioè, è molto semplice la situazione, cioè nel senso, perché ci deve essere, adesso, perché ci deve essere lo zombie che mi vuole uccidere male, ma perché ci deve essere lo zombie? Ho sentito una scrofa che ha fatto, una roba del genere, ho sentito, io, io mi sto spaventando seriamente, cioè nel senso, non so che cosa sta succedendo, ma ancora, ma avete, ma che caspita è? Eeeh, ma non è normale, ma smettila, se no ti esplodo io, partiamo per l'avventura, devo trovare un posto prima di tutto dove stabilirmi, secondo, devo trovare, tipo, delle pozioni di rigenerazione, perché sono quelle che ovviamente mi permettono di rigenerare il mio corpo, che si rompe in una maniera incredibile, cioè manco avessi, non lo so, veramente, ma, cioè, non è così, io non riesco a saltare un cavolo di blocco, perché sto qua si rompe, ma che caspita di problemi c'ha, ma scomma, ah 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 ah, allora, cerchiamo invece di concentrare, eeeh, ma che velocità che ho però in acqua, caspita, sto, sto proprio notando alla velocità della luce, proprio, ok, perfetto, vado qua in giro, prendo anche le pecore, c'è pure la pecora di, di, ah, tipo viola, che caspita di colore è questo, sì, in teoria è viola, sono molto bravo io con i colori, dovrei esserlo, però, per un qualche motivo strano dovrei esserlo, ma, non lo sono, allora, prendo i colori della pecora, vai, non i colori, volevo dire la carne, la pecora, sì, comunque è viola, dai, cioè, non sono così ignorante di colori, cioè, sono giusto, è viola, giusto, scrivetemi nei commenti questo, ovvero pure no, eeeh, che isolona bella che c'è, ma prendo intanto questa pozione di rigenerazione, perché mi sono rotto i piedi, e se no non riesco a notare in alto, vedete, eeeh, che bella però, devo assolutamente capire cosa c'è qua dentro, però posso, per fortuna, nuota abbastanza velocemente, perché sono, guai, che velocità a nuotare che c'ho però, cioè, sono proprio un figone, wow, che bravo, vai, vai, entra nella cestona, cosa sto dicendo, ok, perfetto, oh, sono qua dentro, vai, che bello, che bello, è proprio una bellissima isola questa qua, io la usavo molto quest'isola per fare i miei piccoli tic tocchettoni, invece adesso non li faccio più, ah, molto bella come isola, però, cosa ci posso fare qua sopra, non lo so nemmeno, allora, però, se io non posso nemmeno saltare, adesso però io non, mmm, allora, mmm, io perdo un po' la pazienza, ma no, sto imparando la pazienza, giustamente in questo percorso, che è chiamato vita all'interno di questo, ma porca miseria, vita però, dico, all'interno di questo, ma che caspita sta succedendo, ho detto, sto imparando la pazienza, che è il mio percorso, giustamente, che devo imparare a fare, no, giusto, perché poi le persone devono imparare ad avere pazienza, non nella vita, nella vita serve, infatti io sto imparando ad avere pazienza, se morivo qua la mia pazienza però finiva, io ve lo dico, cioè, non, non, non per essere antipatico, però, insomma, la pazienza dopo una certa ha un limite, proprio per questo che mi sto innervosendo un pochino, anche perché se il mio personaggio salta e si rompe la gamba da solo, io cosa ci posso mai fare? Cioè, ma ci posso fare qualcosa se sto qua deficiente che non è altro salta e si rompe la gamba? Cioè, ma puoi essere così deficiente? Io, boh, veramente, ma scusate, ma, cioè, questo qua, dov'è che ha vissuto nella vita? Cioè, in un acquario? Ma, cioè, ma sai saltare invece che romperti le gambe? Ma io non so, ma, cioè, ok, allora, posso farcela, posso farcela di imparare la pazienza, soprattutto a sopravvivere, perché non è detto che io riesco a sopravvivere, Ma la pazienza spero di riuscire a portarla a casa, mia bella, ma qua ci sono, in questo villaggio ci sono dei medici della peste cattivi Ho paura, no, però in realtà non fanno niente questi, sì, però sono proprio medici della peste, praticamente vendono cose un po' particolari, probabilmente mi vendono la peste Guardate, io non voglio la peste, cioè, nel senso, se volete darmi qualcosa di utile, potrei anche accettarla, ma, insomma, potremmo anche fare uno scambio decente Però mi sembra, quindi in questo villaggio, a quanto ho capito, c'è della peste, che magari va, come dire, va debellata Allora, prima di tutto, statemi lontani, perché fate schifo, io non voglio prendermi la peste, è anche naturale, dopo tutti gli animali che avete qua, che sono tutte le pulci che portano la peste Però i pesci me li prendo, che non hanno le pulci con la peste, i pesci sono buoni Ehm, questo cos'è che fa? È un ignorante, me ne vado Oh, ma basta, costa i rumori! Mamma mia, questi animali che rottura di pippole, oh, cioè, veramente Ah, però adesso posso prendere i miei pantaloncini, che finalmente ne ho trovati alcuni Poi, i cuori di zombie, wow, che belli, proprio una cosa che a me mi interessava particolarmente, no? Ehm, no, ovviamente non mi interessavano i cuori di zombie Però devo dire che questi pantaloni mi donano totalmente E posso dire di essere soddisfatto di essere venuto in questo villaggio Nel caso loro avessero la peste, però vorrei aiutarli Cioè, nel senso, ragazzi, secondo me, no, iscrivetemi nei commenti se anche voi la pensate così Ma se ci sono i medici della peste, qua in questo villaggio vuol dire che c'è la peste Quindi, secondo me, dovremmo aiutarli Voi cosa ne dite? Vorreste che aiutiamo questo villaggio a debellare la peste? Nel caso, scrivetemelo nei commenti, ovviamente Io lo farò, ovviamente Qualsiasi cosa voi mi direte nei commenti, io farò, chiaramente E sto qua imbecille che non sei altro Dovresti darmi qualcosa di più utile Ah, però scusa, è vero Se io ammazzo tutti quanti, però non... Dopo la peste va via Quindi non si dovrebbe aiutare in questo modo Ovviamente ammazzare tutti quanti su Minecraft, si intende sempre Ma non è nemmeno... non serve nemmeno specificarlo Infatti non sono nemmeno morto adesso, vero? Nooo Mmm, qua c'è un bioma molto interessante Forse dovrei andarlo a vedere In effetti Poi qua c'è un altro di quei tempi molto particolari Secondo me questi tempi sotto Nascandono dei segreti Infatti, forse andiamo a vederli Scrivetemi, ovviamente, sempre se volete andare a vedere Nei commenti, chiaramente, i tempi Non so cosa stavo facendo Ah, però, ok, questo bioma, sì, è carino, però Insomma, adesso io sono curioso di vedere cosa c'è nei tempi Scusatemi un attimo, perché Cioè, nel senso, non è normale che ci siano solo i tempi Lì qua Qua sotto, in teoria, dovrebbero esserci Altre cose Mi auguro In effetti, se andiamo... Ma lo sapevo! Che figata! Cosa c'è? Cos'è questo cristallone? Mmm, il cristallone... No, però, fa cose strane Signor cristallo, non faccia Questi versi particolari Cioè, nel senso Lei è un cristallo molto educato, vedo Però, insomma, non mi sembra che stia facendo qualcosa Signore Può far qualcosa? Cioè, nel senso Ok, dobbiamo capire effettivamente a cosa possono servire questi tempi Già, il fatto che abbiamo trovato una cesta nascosta, però, dice tutto riguardo questi tempi Cioè, nel senso che dobbiamo esplorare nel quanto più possibile Anche un diamante! Che figo, bellissimo! E poi dei pezzi di costellazioni, praticamente Questi pezzi qua, possiamo prenderli e trovare le costellazioni Molto belli durante la notte, ovviamente Il che però, insomma, è un po' inutile Ok, io direi che nel prossimo episodio continuiamo, ovviamente, questa avventura E cerchiamo di farci una base E di continuare a fare, a svolgere le nostre mansioni Per ritornare nel mondo normale E vedere se io acquisterò pazienza Oppure no Grazie a tutti! Grazie a tutti!